Complimenti per il risultato. Quanto ci credevi e quanto te l'aspettavi? Non aspettavo tanto questa vittoria, ma quando ho venuto qui ho creduto fino all'ultimo punto della partita. Cosa è che ti ha permesso di affermarti, di vincere il torneo? Ho solo provato a giocare il mio meglio e il resto veniva tutto da solo. Un torneo importantissimo a livello europeo, qual è il tuo prossimo traguardo? Adesso vado a fare un torneo a Dubai, under 18, tra tre settimane e dopo penso a una pausa di torneo, solo allenamenti. Cosa vorresti migliorare del tuo tennis? Devo lavorare un po' in tutto, ma forse nel mio gioco nella rete un po' di più. La tennista alla quale ti ispiri? Mi piace tanto Errani e Halep. Grazie mille. Grazie mille. Grazie a tutti